Un consiglio comunale straordinario è aperto per discutere dello stadio Carlotto a Bordonaro, per la messa in posa del Manto Erboso ed altri particolari. Si terrà giovedì prossimo, 16 novembre, alle 19 a Canicatì. A richiedere la seduta consigliare sono stati i consiglieri Fabio Falcone, primo firmatario Ivan Trupia, Maria Logiudice e Giuseppe Alaimo per discutere e confrontarsi sulla situazione generale del campo sportivo. I consiglieri hanno inviato la richiesta al presidente Alberto Tedesco dopo aver visto il comunicato dall'oggetto affidamento e gestione dello stadio Carlotto a Bordonaro, assieme ad ulteriori considerazioni concernenti il proseguimento dell'attività sportiva presentato e verbalizzato il 20 settembre scorso dall'ASD Canicatì Calcio presso la prima commissione consigliare permanente e aver sentito il presidente della stessa associazione sportiva. Inoltre Falcone, Trupia e Logiudice e Alaimo hanno accolto le numerose istanze dei tanti sportivi e tifosi canicattinesi che chiedono uno stadio adeguato, considerato che il calcio a Canicatì è tornato ad alti livelli agonistici disputando il campionato di eccellenza. La società del presidente Sandro Giglia aveva chiesto con insistenza l'amministrazione comunale del sindaco Ettore di Ventura di presentare un progetto per la sistemazione del terreno di gioco con la posa di un manto erboso ma dal comune non è arrivata nessuna risposta. Anzi, per la situazione di silenzio che si registra, la società aveva lanciato un ultimatum. Se entro il 30 novembre non ci saranno risposte su eventuali iter da attivare, la squadra sarà consegnata alla Giunta e questa cosa è sicuramente da evitare.